Sì, no sopra. Scusate, dove? S-Sopra, la camera da letto, sì. Sopra? Sì, ne! Sopra? Si sta uno! Ecco qua, fammi il corridoio! Picca, 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 picca. Picca, picca, picca. Bene, va via, va verso l'altra parte. Bene, sta andando sopra, è andato sopra. È andato tutto, sta la bianca. Il drone è attivo. Ho usato un C4, non so da dove l'ha tirato, però. Uso un nuovo caricatore! È sotto ancora uno, è ancora sotto uno qua allo stanzino. Il corridoio davanti a conferenze. Ricarico, copritemi! Raffine F, ero avanti. Ricarica! Ho tolto un cavo elettrizzato e vabbè, tanto è morto. Hai trovato una bomba! Bene, scavolla. Non hai più il disinnescatore? Da sotto ancora, conferenze. Oh, ma non si è sposta minimamente, sto tizio. Sì, non abbiamo... Un paio! No, un paio! Muso c'è. Un batterio. Solo uno stanzino. È paz Y. No, il disinnescatore è il mio corosco! coglione ma non l'ho sentito manco partire il c4 manco io faremo a fare veramente più diciamo di solito lo collo quando c'è una c4 ma non l'ho sentito è morto oddio se non c'aveva il pompa secondo me forse poteva pure vincere Zofia contro il mute quindi i due colpi li ha tirati li hai fatti entrare quindi missione è trovare disinnescare una bomba insomma non c'è coglione ogni volta dai ricarico le munizioni ora c'hanno il mute a la rientranza del muro non c'è sta nessuno c'hanno aruni a colonne c'è uno hai trovato la bomba la c5 è in uscita sono un pezzo qualche orecchio hai trovato che non c'è stato niente no rega ma mi prendi dietro il muro dai basta Madonna Dov'era? Sulle scale Perché si è spostato pillar Madonna regà ma più dietro il muro di così Cos'è successo al mio giocatore? Bravissimo Eppure Jager mi sembra Mi hanno botto a prendi questo drone di Jager Se hai fai girarlo un pochino, se lo fai girarlo Eh? Lo puoi girar, bella, lo puoi girar Lo puoi girar Basta, basta, vada, vada L'amaro è stata E' blanco, porco giuto Ho visto non da lagare Blanta Dio Polono Blanta! Raga ma sta laggando, per Dio No Stiamo andando a laggare tantissimo Ti tornavi indietro Vabbè non laggava minimamente, ragazzi Ok, facciamo il bull walk in avanti Nice full team Lo posso tranquillamente assicurare Non me nulla Sono a secco, cambio Devi recuperare il disinnescatore Un culo Rientranza del muro nessuno Per ora Ho sentito spaccare una finestra Sì Sì Cioè, sembra che non ci vede un cazzo Però meglio Ci dovrei vedere Sì 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 le mani ma giochi purtroppo quando l'ho abbandonato facevo cagare pure io lo faccio ancora la squadra d'attacco ha trovato una bomba i fatti contano più delle parole cambio caricatore cambio caricatore troppo calmo arrivano da granaio solo con sbocco ho le mani in difesa mazza raga quanta vita c'avete no che stupido cocciuta ascittata guarda la finestra ricaricare c'è qualcuno granaio? è fuori dalla finestra di granaio è troppo calmo sono io a granaio adesso dove? nella mia visone non c'era non c'era dove? è fuori dalla porta principale è fuori dalla porta principale vabbè hanno trovato una bomba sapete cosa fare 15 secondi mancano 10 secondi morto eis ultimo attaccato è rimasto in vita rimangono 5 secondi stavano raga stavano in one shot tutte e due raga non capisco se non ho capito se lagga lui o lagga una lobby probabilmente se laggava anche onda prima raga dove ho capito la clip di come mi ha ucciso non capisco io proteggete le bombe ma rigate blitz che noi dobbiamo fare tante tappe cioè tante road un botole l'ha fatta Jäger Jäger è proprio pannato e ti cacchi è salito sopra la squadra d'attacco ha trovato la vigil la squadra d'attacco ha trovato una bomba la squadra d'attacco ha trovato una bomba rimangono 10 secondi un po' di dissocio da questa cosa restano 5 secondi la squadra d'attacco ha trovato una bomba un po' di rischi da come si è passata dritti perciò la squadra d'attacco ha chiesto non c'è la squadra d'attacco ha trovato un po' di colonna non faccio le BD non ho perso devo morire faccio le BD una volta che muoio un altro alfa non mi è morta dietro dietro alfa nomad non mi è morta a colonna itatissima però la viti ok no no sono morto raga ma non ci muore nomad missione fallita che Dio one hit sto cazzo adesso gli incasino i meridiani l'attacco ha trovato una bomba proteggetela ho rinforzato il muro ricarico siamo a 10 secondi restano 5 secondi il nemico ha trovato una bomba prepararsi all'ingaggio maricata pronta ingresso sicuro ingresso sicuro ma colonne ma stu Nooo Non lo toglie Vieni Entrato Ace Morto Ace Te la caperai alla grande A rotation, a rotation Morto Morto Squadra d'attacco eliminata Missione rischietata Vedo che tu l'abbia distrutto Nooo No, no, no La trip ma cos'è No, no, no No, no